Musica Ben ritrovati a ore 7 con il nuovo ospite che in realtà è una vecchia conoscenza perché Tommaso Peci, il direttore artistico di Art Talort Buongiorno Tommaso siamo giunti alla non edizione del festival di arte per strada letteralmente arte che si dipanerà poi per le vie del paese fatta di musica, di recitazione, di canto, di tutto un po' è una formula in realtà che si è rivelata vincente perché avete sempre raccolto degli ottimi risultati dal punto proprio di vista del riscontro Sì, è quello secondo me l'idea di utilizzare le perle del nostro territorio come può essere proprio il castello di Fagagna questa collina Poi è notorio che Fagagna è un paese bruttissimo Esatto, specialmente appunto la zona medievale Certo Certo, no? E quindi l'idea di utilizzare appunto la collina del castello che domina su tutta la regione quindi con questa visuale quasi su 360 gradi sul Friuli come location per ambientare spettacoli, concerti in maniera anche molto molto semplice senza andare a costruire Molto immediata Sì, in modo anche per fare un po' come una sagra di una volta però con gli artisti di oggi Anche perché poi l'arte di strada, l'arte per strada che dir si voglia per sua natura rifugge, no? Dalle grandi strutturazioni è un'arte spontanea in qualche maniera Certo, certo vuole proprio che lo spettatore cammini faccia un giro per la collina si fermi, ascolti un concerto si sieda su un prato spilucchi qualcosa vada a vedere un clown e poi si faccia un altro giro e c'è il lavoro che noi stiamo cercando di fare comunque è quello di dare anche una di vivere questo festival in maniera molto piacevole molto serena anche un po' un momento di stacco rispetto alla frenesia di quello che è la nostra vita Il festival che tra l'altro prevede la partecipazione di un numero nutrito di artisti devo dire, avete insomma Beh sì, diciamo che fin dalla prima edizione abbiamo sempre voluto lavorare su un buon numero di artisti sempre lavorando su da una parte presenze internazionali dall'altra artisti italiani di livello di livello sicuramente e da un'altra parte ancora diamo spazio anche a giovani o nuove eleve della cultura dell'arte friulana anche che possano avere spazio e visibilità messi a fianco ovviamente a dei maestri Sarà il caso magari per togliere spazio fraintendimenti di sottolineare che quando si parla di arte di strada arte per strada non significa improvvisazione significa molto spesso un livello di professionalità poi in realtà il nostro festival d'arte per strada con questo gioco di parole noi vogliamo dire che non è un'arte di strada abbiamo artisti di strada abbiamo clown abbiamo appunto busker però ci piace mettere in strada anche performance che nascono per essere fatte indoor per cui quindi insomma mettete proprio la prova all'artista certo è la location da quella parte originale avete gente che arriva addirittura dal Canada si beh diciamo il nostro ospite più importante siamo tre anni e dopo tre anni di corteggiamento dimorosamente siamo riusciti a avere per la prima volta in friuli e Dado questo clown canadese che è uno degli artisti più straordinari che abbiamo visto in vita mia vediamo l'immagine una capacità un clown contemporaneo e quindi che si stacca un po' dall'immaginario e ha una capacità di coinvolgimento del pubblico di improvvisazione in questo caso e di inventiva che io poche volte ho visto in vita mia in tanti festival e che dopo anni appunto di dimorosamento perché artisti di questo livello hanno l'agenda impegnata fino a chissà quando e sarà in regione per la prima volta e toccherà tra l'altro non solo le date di Fagagna ma abitudine nostre negli ultimi anni è distribuire gli spettacoli artisti in alcuni piccoli o meno piccoli comuni della regione Dado sarà a Pordenone il mercoledì 1 di agosto a Travesio il 2 e a Villa Orba di Basiliano il 3 quindi proprio insomma tocca vari ma è un modo per far conoscere il nostro festival e anche per fare rete perché ovviamente portare questi nomi in regione sicuramente è un investimento importante mettendoci assieme tra più comuni è un modo per riuscire a farlo in maniera sostenibile trovando l'attenzione degli interlocutori ma beh direi di sì negli anni è sempre più facile nel momento in cui vedi che la cosa funziona vedi che portiamo comunque una proposta molto originale e di sicuro successo nel senso che questi sono artisti che hanno girato per 40 anni il mondo lo spettacolo di Dado è stato visto probabilmente in ogni paese di questo pianeta e come il secondo artista internazionale che proponiamo Alex Barti un macedone però si definisce macedone danese spagnolo perché ovviamente un figlio del mondo un marionettista anche questo straordinario lui a differenza di molti altri artisti di questo genere ha lavorato solo su una marionetta tutta la vita 30 anni di lavoro su Barti questa marionetta che viene comandata da oltre 40 fili mamma mia io l'ho visto dal vivo la prima volta l'anno scorso e mi sono completamente innamorato per la capacità ormai per la totale sinergia tra la marionetta e il marionettista che non esiste più la marionetta vive e gestisce lo spettacolo da sola prende il pubblico improvvisa la marionetta col pubblico una cosa che non mi era mai capitato di vedere quindi sono anche spettacoli estremamente coinvolgenti sì sì questi poi sono gli spettacoli più dedicati alle famiglie Alex Barti tra l'altro sarà anche lui in esterna il venerdì al piazzale Chiavris a Udine al Giangio Garden uno in anteprima per il pubblico udinese tanto lavoro insomma sabato 4 e domenica 5 agosto è proprio il festival di arte per strada a Fagagna però come spiegavi ci sono poi alcuni eventi i vostri artisti tra virgolette sono sparpagliati in numerosi eventi certo certo noi lo chiamiamo Aspettando Arta L'Orto un modo appunto per dire al pubblico guardate che ci siamo certo poi mi fa piacere di parlare forse dell'evento più importante anche a livello locale che per la prima volta il festival diventa un posto di produzione teatrale il comune di Fagagna mette a disposizione i suoi spazi per una compagnia la compagnia di Giuliana Musso che è una delle interpreti più mica bagigi una delle interpreti più brillanti del teatro civile in Italia che riallestirà uno dei suoi capolavori tanti saluti questo lavoro di teatro civile di ricerca che ha partito dieci anni fa lo riallestirà proprio in Sala Vittoria a Fagagna lavorerà con la sua compagnia per una settimana a Fagagna giovedì nel tardo pomeriggio ad ammettere a disposizione le sue prove per una prova aperta in modo che il pubblico possa vedere anche come lavora un'attrice una regista una drammaturga di questo livello e sabato 4 agosto in apertura al festival alle ore 20 in Sala Vittoria ci sarà un'anteprima assoluta a livello nazionale proprio del nuovo riallestimento di tanti saluti pronto per girare poi l'Italia il prossimo anno nelle stagioni più importanti è tanto lavoro davvero da quanto tempo state lavorando per questa edizione perché insomma visto anche il calibro degli ospiti degli artisti presenti insomma è inutile negarselo cioè dietro tanto tanto lavoro beh come dicevo da questa edizione io ci lavoro dal 2015 perché per avere dado per esempio no 2015 vieni a Fagagna ah no sono impegnato però 2016 vieni no 2018 se vuoi ti fisso il 2018 per cui bisogna lavorare in anticipo ma è una cosa che abbiamo imparato a fare negli anni come dire stordirete i vostri ospiti amabilmente a colpi di frico e buon vino magari ma sì questo è proprio il nostro divertimento no in realtà l'arma segreta nel vivere slow no nel godersi il territorio ovviamente la parte no gastronomica è fondamentale e da un po' di anni stiamo collaborando con i ristoratori e le associazioni di Fagagna proprio per proporre durante il festival una gastronomia che sia originale no noi ci divertiamo a parlare di slow food alla Furlane quindi i ristoratori reinventano i piatti tradizionali con gli ingredienti friulani in tono slow perché proprio non è un posto dove ci si siede e si mangia si cammina ci si siede su un muretto e quindi no il panino col frico una sorta proprio di io non amo moltissimo i termini inglesi ma come dire il cibo di strada street food ma declinato in salsa friulana certo certo per cui c'è il lavoro di ricerca durante l'anno il ristoratore ho individuato l'hot dog friulano faccio una salsa col formaggio asino e la metto quindi anche ci divertiamo molto da questo punto di vista e il pubblico su questo diventa amato perché il primo anno che hanno proposto le sardelle impanate a una festa è qualcosa che non si vede più in zona sono delle piccole gioielli ci divertiamo molto altri artisti quest'anno altri artisti importanti beh avremo la chiusura del festival domenica 5 con Le Babette questo trio swing tristino che è stato visto a livello nazionale però per l'occasione accompagnata da una big band la 1000 street orchestra assieme a Le Babette sulla collina del castello sul girone semicircolare per cui dove per dominare il fiuli non si scherza non si scherza e in più altri artisti beh i Daisy Chain questo gruppo di musicisti friulani raccolto dai gruppi più importanti che ci sono in regione che suonano musica surf musica Tex-Mex pulp hanno riarrangiato in maniera molto molto vivace molto molto calda tutto questo repertorio tarantiniano eccetera eccetera e poi dimenticavo scusate il terzo artista internazionale i De Querus da Tango Club un gruppo di tango argentino proprio un distillato di argentinità arrivano direttamente a Buenos Aires sono in tour europeo e passeranno a fare una tappa proprio il sabato 4 l'artalorto con il loro tango originale loro scrivono suonano il loro tango girano l'Europa e grazie alla collaborazione del festival con Leo Virgili che è stato un po' l'anima della programmazione musicale siamo riusciti ad averli a Fagagna proprio per il 5 quindi per gli appassionati di tango sicuramente un'occasione vari date in tutta la regione il clou a Fagagna 4 e 5 gli orari diciamo saranno nell'arco dell'intera giornata dal tardo pomeriggio dalle 18 la collina si apre ci sarà un biglietto prezzo simbolico per l'ingresso non per i minori di anni 10 i bambini giustamente vogliamo che entrino liberamente che scoprano queste cose ci sarà un braccialetto che consentirà di entrare uscire di muoversi liberamente e da quel momento in poi fino a che non ci fanno spegnere la musica all'interno dell'area sarà anche possibile comunque mangiare qualche cosa certo sicuramente l'area sarà abbastanza ridotta quest'anno abbiamo proprio deciso di dedicarci alla Carolina del Castello che è la parte sicuramente più affascinante più bella del paese è anche molto bella davvero bene in bocca al lupo per la non edizione del festival Art Talort Arte per strada a Tommaso Peci mi raccomando 4 e 5 agosto a Fagagna ed intorni buona giornata a rivederci a to l'isola